Ormai è tardi. Sono arrivati. Buongiorno padre, commissario Nemance di Parigi. Qualcuno manca all'appello? Nessuno. Fate un test del DNA per sapere chi è. Filippo Esachitar. Era pazzo ma non finò a questo punto. Ma da quando aveva rivisto la sua luce? E ha un nome, questa luce? Gesù. Ma dove è uscito questo stronzo? Dove vai, combinato così? Posso aiutarti, sono della polizia. Chiamo un'ambulanza. Quel convento è maledetto, lo sanno tutti. Ma loro non hanno voluto ascoltare. Chi sono loro? Qualcuno è rientrato nel palazzo? No, nessuno. Girati lentamente. Nemance. Hai finito la scuola? E lei? Ancora non va in pensione? A chi pensi che li affidino i casi più rognosi? L'apocalisse è racchiusa in sette sigilli che proteggono il sacro libro. A terra! Sono arrivati! Nimas, cosa vogliono? Non ne so niente. Cos'è questo delirio? Non ne so niente. S 개인 da te. No! Grazie a tutti.